Io saluto volentieri tutti gli interventori alla tavola rotonda, dispiacendomi di non essere presente, ma per me era assolutamente impossibile non farla, ma ci tenevo in qualche modo a far sentire la mia voce. Ma il ringraziamento, oltre che il saluto, va nel fatto di aver pensato di trattare un tema che riguarda la corruzione in un festival che si occupa di religioni. Questo è un altro segnale culturale molto importante, cioè il segnale che si comprende è che le questioni che riguardano la correttezza civile non sono diverse dalle questioni della religione. Quindi in questo senso una scelta di questo tipo, fatta dagli organizzatori del festival, che ripeto, ringrazio ancora una volta, è un grande segnale culturale di cambiamento. Nel nostro paese il termometro della corruzione, che temperatura segna? Io credo una temperatura medio alta, nel senso che la corruzione purtroppo è un fenomeno molto diffuso, è un fenomeno molto innervato nella società, è un fenomeno però del quale finalmente si sta cominciando a prendere cognizione, si sta cominciando a prendere cognizione non solo della intensità del fenomeno, ma anche della sua pericolosità. C'è stato un passato in cui questo fenomeno corruzione era stato molto sottovalutato, considerato tutto sommato quasi un peccato veniale. Oggi sta cambiando nettamente questa percezione e questo cambiamento di percezione ci lascia ben sperare. Io non credo che meritiamo l'appellativo del paese più corrotto d'Europa, credo che meritiamo giustamente l'appellativo di un paese con grossi problemi di corruzione, ma ci sono anche una serie di elementi che possono far sperare positivamente in un cambiamento in tempi medio-lunghi. Quali punti di fragilità e quali quelli di forza? I punti di forza, i punti di debolezza sono la sottovalutazione del fenomeno per troppo tempo, cioè per troppo tempo si è assistiti a una posizione anche culturale di chi diceva che in realtà la corruzione non era un problema dell'Italia, lo diceva persino in qualche caso in qualche atto ufficiale, diceva che noi non eravamo un paese che aveva problemi di questo tipo, la sottovalutazione ha portato a volte anche a normative che non sempre sono state in linea con un'intensità di un fenomeno corruttivo di questo tipo. Il punto di debolezza è anche spesso una classe dirigente che non sente come prioritario questo tema o non sentiva come prioritario questo tema. Io credo che il vero punto di debolezza del paese sta anche in questa sottovalutazione culturale. I punti di forza stanno proprio in questo cambiamento che si sta piano piano verificando, cioè sta cominciando a passare l'idea che la corruzione è un male generalizzato, così come è riuscita a passare l'idea che la mafia era un male generalizzato e quindi si stanno provando a inserire le contromisure contro questo meccanismo. Però questi punti di forza si devono pesantemente rafforzare nel paese per consentire alla parte migliore di fare la sua parte. Le inchieste da Milano, Roma, Venezia segnano la rivincita dello Stato e della legalità, ma dall'altra parte emerge un'elite criminale fatta di colletti bianchi e di burocrati. Come scardinare il sistema? Prima di tutto condivido l'affermazione che l'indagine è però anche la dimostrazione di una parte del paese vitale, perché le indagini che sono riuscite ad arrivare, quelle del Mose, ma anche quelle di Roma di mafia capitale a livelli molto elevati, molto significative sono quelle dell'Expo. I video iniziano che poi c'è una parte della società che reagisce, perché anche quello fa parte della società italiana. Mi verrebbe di dire, così anche un po' per paradosso, non è che queste indagini sono state fatte da un organismo sovranazionale, queste indagini sono state fatte dalla magistratura italiana, dalle forze di polizia italiana, hanno avuto collaborazione in settori dell'amministrazione italiana. Quindi è un segnale di un sistema che reagisce. Il quadro che emerge è ovviamente un quadro molto preoccupante, perché è un quadro di diffusione profonda del fenomeno corruttivo, di diffusione profonda del fenomeno corruttivo che altera persino le dinamiche della democrazia, ed è uno di quegli elementi da cui bisogna provare a ripartire, per provare a inserire nel sistema gli anticorpi. Cioè la politica deve capire, deve scegliere, in modo da evitare che fenomeni di questo tipo si possano verificare. Oggi c'è tutto questo tema in campo delle candidature alle elezioni prossime. Non sono scelte estranee alle questioni sulla corruzione. Candidati per beni, candidati autorevoli, sono il vero antidoto alla corruzione. Quindi la politica deve fare la sua parte, lo deve fare un po' il legislatore modificando una serie di norme, ma lo deve fare anche la società civide, per esempio i corpi intermedi. Per quanto tempo le associazioni, gli organismi professionali, le agenzie educative non hanno fatto la loro parte? Anche la stessa Chiesa non in passato ha fatto sentire fortissima la propria voce su questi temi. Oggi su questo ci sono grandi cambiamenti. Io credo che mettere insieme, se si riesce a fare rete fra tutti questi strumenti, i risultati si possono ottenere. Da solo uno non riuscirà mai a portare a termine il disegno complessivo. San Giovanni Paolo II, nella Valle dei Templi, aveva tuonato contro le mafie. Poi Papa Francesco è intervenuto e interviene con forza sui temi legati alla legalità. Ma abbiamo anche le processioni con infiltrati legati alle cosche. Come vede il rapporto tra Chiesa e criminalità? Ma io credo che ci sia in atto una grande evoluzione, assolutamente positiva. Una grande evoluzione perché in passato c'è stata una tendenza a valorizzare i momenti e i segni esteriori. Cioè una parte, per esempio, del malaffare, soprattutto di tipo mafioso, utilizzava segni esteriori analoghi, cioè segni esteriori di tipo religioso. E questo portava alla confusione di ritenere che tutto sommato erano dei credenti che avevano sbagliato, solo che continuavano a sbagliare senza che nessuno provasse a farglielo capire. Perché la religione, soprattutto la religione cattolica, ha un grande, diciamo, e lo dico da credente, ha un grande punto di forza. Il perdono. Il perdono, diciamo, rappresenta per i cattolici un momento fondamentale. Il simbolo del perdono è Gesù sul Calvario che dice a uno dei due, stasera sei con me nel regno dei cieli, cioè fino all'ultimo un soggetto può cambiare e può essere perdonato. Quindi questa è la grande forza della religione che porta a dire che chiunque, anche il peggiore, può cambiare. Ma oggi è evidente che non ci può essere perdono senza una resipiscenza vera e senza anche meccanismi restitutori. Quindi su questo è cambiata pesantemente la posizione, per esempio, in materia di lotta alla mafia, perché non basta andare in chiesa, non basta fingere di fare elargizioni a favore dei poveri e poi continuando a fare le estorsioni e ammazzando le persone. Su questo il Papa ha fatto passi avanti, Giovanni Paolo II, con quella cosa anche in attesa, quell'urlo nella Valle dei Templi, ma c'erano stati però precedenti importanti, di tanti sacerdoti di strada che si erano in qualche modo allontanati da tanti altri sacerdoti che facevano a gara per portarsi i mafiosi in chiesa. Oggi su questo tema della mafia possiamo dire che la Chiesa ha una posizione abbastanza consolidata. Oggi si fa fatica a trovare un sacerdote, ce ne sono ancora, che giustifica il mafioso o certe mentalità mafiose. Su questo abbiamo fatto un grande passo avanti. Io credo che la grande rivoluzione che è avvenuta da Papa Francesco sia invece l'attenzione alla corruzione. Papa Francesco ha un modo anche di colloquiare, che è un modo di esprimersi, che ha una grande forza anche proprio visionaria. Quando dice la corruzione spuzza, io credo che dice delle cose che restano impresse, hanno una capacità in qualche modo di cambiare le mentalità. Quello che di Papa Francesco mi è rimasto davvero in materia di corruzione è che lui dice che la corruzione è peggio del peccato. Che il peccato si può perdonare, la corruzione no. Questo è un segnale di chi ha compreso quanto la corruzione sia assolutamente fondamentale, cioè sia uno di quei meccanismi che rischia di minare la società civile. Papa Francesco evidentemente viene da un paese che sa bene quanto la corruzione ha rappresentato un limite per la democrazia e sa bene quanto è corrosiva la corruzione. Io credo che quelle carenze delle agenzie educative, fra cui c'era anche la Chiesa, oggi in parte possono essere superate. È un aiuto enorme per chi prova a combattere la corruzione sapendo che c'è anche un intervento pastorale di questo momento. Il cambiamento culturale che ci può essere con un intervento di un vertice, soprattutto con l'autorevolezza che ha il Papa, questo Papa, su questi temi può essere molto più utile di migliaia di arresti o di sequestri. Questo può rappresentare davvero un cambiamento epocale e culturale. Dobbiamo ovviamente augurarci che tutto questo venga anche un po' digerito da tutto il corpo della Chiesa. Ci vorrà un po' di tempo e mi sono convinto che questa scelta di Papa Francesco avrà effetti eccezionalmente positivi nella lotta alla corruzione. Grazie a tutti.